La raccolta dei rifiuti a rientro dalle vacanze dei Romani potrebbe degenerare drasticamente e per questo Ama e Campidoglio corrono ai ripari. La proposta è aumentare le tonnellate da smaltire ogni giorno nel sito di Saxarubra. Il piccolo centro ha iniziato a lavorare a fine luglio in concomitanza con la chiusura mai terminata di Ponte Malnome. Allo stesso tempo è necessario di organizzare l'assetto dei centri di trasbordo dell'immondizia. Il Campidoglio ha stilato un elenco di sette nuovi siti dislocati in sei municipi. Nonostante Ama inizialmente abbia trovato delle criticità, ora proverà ad allestire queste zone anche se solamente due potranno essere pienamente operative. Intanto la sindaca Aralgi insieme a Regione e Ministero dell'Ambiente ha prorogato l'ordinanza che apre le porte degli impianti di trattamento delle altre province ai rifiuti romani. Infine la sindaca dichiara guerra ai trasgressori dell'ultima ordinanza che vieta l'utilizzo dei sacchetti non trasparenti per l'indifferenziata. Polizia Locale e Ama infatti hanno il compito di aumentare i controlli. La sanzione minima prevista è di 25 euro ma può arrivare ad un massimo di 500 euro.